oramai mi ero veramente dimenticato quasi la sensazione di sedersi su questo trono di AK Racing che non ci paga come sponsor di questo video e parlare con voi iscritti vi sarete accorti che c'è stata un'assenza inaspettata sul mio canale oggi è il 24 di dicembre, è la vigilia di Natale, sono esattamente le 12.21 e ho rinchiuso tutti i miei parenti nell'altra stanza per fare questo video lo monterò al volo per darvi spiegazioni perché comunque è giusto così anche perché nell'ultima settimana sono anche successi degli avvenimenti che hanno giustamente lasciato nel dubbio molti di voi ed era giusto darvi delle spiegazioni partiamo dal titolo, molti di voi penseranno che è un clickbait, molti altri no diciamo che è una via di mezzo, nel senso che chiaramente non ho fatto niente di grave però quello che è successo è che nell'ultimo periodo ho deciso di investire una quantità spropositata di risorse, tempo e denaro per migliorare la qualità del mio canale ve ne sarete accorti, ho comprato tutta una nuova attrezzatura, una nuova macchina fotografica in realtà due nuove macchine fotografiche perché vi faccio vedere questa è un'altra nuova arrivata, è la Panasonic GH5 l'ho presa per fare delle riprese particolari che la A7R3 non può fare anche se la A7R3 comunque mi ci sto trovando benissimo e sarà la mia cam principale da studio ma non solo a livello fotografico, avrete visto che ho una nuova postazione peraltro con il Mac Mini che mi è arrivato da Apple, presto pubblicherò la sua recensione un nuovo monitor, nuove tastiere mouse ma più che altro sto investendo anche in materiali per realizzare dei nuovi video voi purtroppo non lo vedete ma alla mia destra c'è un armadio che è pieno di prodotti, pezzi per PC e cose ancora in scatolate che mi serviranno per dei video futuri e sono progetti veramente grandi ragazzi ovviamente progetti grandi per cui ci vuole tempo per la loro realizzazione ma quando ho detto che ho rischiato di farmi cacciare di casa non era troppo uno scherzo perché per farvi capire queste qui dovrebbero essere le nuove casse che ho scelto per la nuova postazione ma anche per la realizzazione di un progetto e sono le famosissime Yamaha HS8 vi ho portato solo lo speaker principale per farvi vedere il problema è che ho fatto male i conti io abito purtroppo o per fortuna dipende dai punti di vista in un condominio questa qui è la mia stanza non è un hangar, un loft dove ci si può mettere all'infinito cose e non avevo calcolato questo quindi la mia stanza in questo istante è un magazzino letteralmente ovunque io mi volto ci sono scatole, prodotti imballati, prodotti che vanno recensiti e io vi giuro ho dovuto scavare uno spazio per posizionare la fotocamera e registrare questa ovviamente, questa cosa non è piaciuta molto ai miei che da un giorno all'altro hanno visto arrivare decine e decine di pacchi a casa più del normale quindi mi hanno detto cos'è ci dai un taglio oppure usciamo noi ed entrano direttamente i pacchi questo è il primo motivo di questa mia stanza perché era proprio difficile montare il set e avevo troppi pensieri per la testa perché avevo troppe idee in mente e non riuscivo mai a realizzarne una concreta il secondo motivo di questa mia stanza è, se vogliamo legato al primo ho cercato di spiegarvelo anche su Instagram si sta avvicinando il 2019 e per il 2019 mi sono fatto dei buoni propositi per il canale perché nel 2018 ho avuto la prova effettiva che questo è il mio lavoro non è più una passione quindi per il 2019 ho deciso di fare uno step up un passo avanti ho in mente nuove rubriche, nuovi contenuti con una produzione cinematografica alle spalle ho in mente altri progetti che si distaccano completamente dal canale YouTube che non vedo l'ora di farvi vedere e tutta questa pressione perché tutte queste cose io le voglio realizzare entro il 2019 ho finito col non saperla più gestire e vi rimando al video che ha fatto Tudor, Klaus, qualche settimana fa purtroppo chi non fa YouTube come mestiere non può capire spesso il voler fare troppo causa ansia causa letteralmente panico e a me ogni tanto capita quando voglio strafare alla fine finisco col non fare niente quindi mi sono preso una settimana di pausa proprio di riposo totale per organizzare bene tutti i progetti vedere cosa voglio fare prima cosa voglio fare dopo come voglio fare tutto ciò purtroppo devo restare sul vago perché non vi voglio spoilerare le cose però vi posso dire che adesso sono tornato o meglio ieri mi è venuta la febbre a 39 mi sono imbottito di antibiotici perché quest'oggi il video doveva uscire e tra due giorni partirò per le vacanze però comunque metterò da parte abbastanza video per non lasciarvi senza dovrò registrare anche il giorno di Natale però pazienza detto questo ci tenevo anche a chiarire una vicenda che era successa con il mio amico nonche collega Simone Russo innanzitutto mi congratulo tantissimo con lui per il raggiungimento dei 100.000 iscritti ovviamente l'ho fatto prima di tutto privatamente su WhatsApp ma non l'avevo fatto ancora pubblicamente lui ha pubblicato lo speciale 100.000 ieri o due giorni fa e ovviamente moltissimi si sono accorti che io non sono in quello speciale e chiaramente sono sorte delle domande noi che siamo amici siamo praticamente come fratelli da ormai tre anni abbiamo collaborato a un sacco di video su YouTube come mai non sono nello speciale la colpa è al 100% mia nel senso che lui mi aveva chiesto di partecipare allo speciale mi aveva chiesto di mandargli la clip che sarebbe finita con tutte le altre io purtroppo non ho fatto in tempo perché ero in questo mood particolare in cui non riuscivo a registrare dei video per il mio canale figuriamoci per il canale di altri quindi è una cosa che lui sa è una cosa che abbiamo chiarito non c'è bisogno poi di allarmarsi nei commenti siamo amici tutto come prima questo purtroppo ripeto molti di voi non lo capiranno YouTube può essere un lavoro ma se non si è nel mood adatto per registrare per creare contenuti i video vengono abbastanza male infatti mi scuso se questo video non sarà il massimo però non registro da quasi due settimane e ho fatto questo video più che altro per riprendere perché dovevo spiegarvi cosa stesse succedendo comunque non vi preoccupate non è un addio non è nemmeno una pausa anzi è una specie di guardate che ho in mente troppe cose quindi forse dovrò selezionarne qualcuna ma io vi posso garantire che il 2019 sarà un anno formidabile ho avuto dei momenti in cui sono riuscito a pubblicare praticamente quasi un video al giorno stiamo parlando di novembre e la cosa vi è piaciuta molto e vi prometto che presto le cose torneranno ad essere come prima detto questo ragazzi io auguro a tutti voi a tutte le vostre famiglie un felice Natale un buon anno nuovo buone vacanze penso che vi pubblicherò un video anche a Natale per farmi perdonare di tutto ciò però voi dovete guardarlo ok uscirà domani alle nove alle nove del mattino il giorno di Natale puntate la sveglia perché vi posterò un video molto interessante voi ragazzi non avete nemmeno idea di cosa sto organizzando per il 2019 tantissimi nuovi progetti correlati a YouTube e scollegati da YouTube per avere maggiori informazioni seguitemi su Instagram perché lì ci sono sempre ogni giorno faccio le storie metto i post e vi rendo partecipi della mia vita se questo video vi è piaciuto fatemelo sapere lasciando un bel pollice in su che mi renderebbe veramente felice seguitemi su tutti i miei social network come sempre il link ve lo lascio qua sotto giù in descrizione cliccando qui ai lati potete raggiungere altri miei due video invece cliccando qui al centro vi iscrivete al mio canale se lo fate siete dei grandi io vi mando un grande saluto e noi ci rivediamo in un prossimo video molto presto iscriviti al canale